Buongiorno a tutti, sono il geometra Paolo Capobianco, amministratore della società Capobianco SRL che da circa 40 anni si occupa nel settore del restauro edilizio. Dopo tutti questi anni ci siamo specializzati nella risoluzione del problema dell'umidità di risalita, un problema molto serio che condiziona le abitazioni vecchie e quelle nuove. Senza diluncarmi troppo con le parole volevo dimostrarvi concretamente come funziona il nostro prodotto Ursal. Questa è la dimostrazione pratica di come viene applicato il nostro prodotto Ursal. 19 anni fa abbiamo messo in acqua due tufi, uno l'abbiamo trattato con i flaconi Ursal e abbiamo creato una barriera e l'altro l'abbiamo lasciato così com'è. A oggi su quello non trattato si è formato di tutto, alghe, sal nitro, muffe, muschi ed è tutto umido. Invece l'altro è rimasto così com'era. Questa è la dimostrazione che il trattamento Ursal funziona nonostante il tufo sia costantemente nell'acqua. Se nella vostra abitazione avete problemi di umidità di risalita potete contattarci ai nostri numeri di riferimento presenti sul nostro sito. Ciao e a presto.